Il mondo del calcio dei grandi ha avviato le grandi manovre, o almeno ci sta provando. Tra i dilettanti invece ci sono ancora numerosi punti interrogativi. Nei giorni scorsi Stefano Squitieri, ex difensore tra le altre del Sant'Omaso, con l'ausilio dell'avvocato Valentino Viviani, ha deciso di formulare una proposta di riforma strutturale ed economica per quanto riguarda la Lega Nazionale dei Dilettanti, avviando nel contempo una petizione online. Un'iniziativa nata da uno studio di due anni del calcio dilettantistico. Un mondo, quello del pallone non professionistico, che ha poche certezze a causa di diverse lacune legislative. L'intento di questa proposta è dare sostegno e maggiori sicurezze a dirigenti, calciatori e allenatori. Infatti, i calciatori dilettanti non hanno diritto a un contratto di lavoro, ma ad un rimborso misto attraverso accordo economico, come l'attuale in uso in Serie D, per un totale di 10 mensilità in Serie D e 9 mensilità in eccellenza, canonicamente la stagione inizia ad agosto e termina ad aprile, non essendo ritenuti professionisti dalle federazioni. L'idea è anche quella di abbattere il cosiddetto mercato nero dei dilettanti.